Allora, ogni tre mesi, se non sbaglio, o comunque ogni 12 settimane, il presidente della Commissione Europea con una banca centrale europea, il presidente della BCE ogni 12 settimane fa una press release, cioè fa delle dichiarazioni davanti ai giornalisti e annuncia la politica monetaria che ha intenzione di attuare da lì in poi. Quindi ogni 12 settimane si riuniscono, fanno questa conferenza stampa e il presidente della BCE comunica gli obiettivi di politica monetaria che andrà a perseguire. Ok? Ora, in realtà quella di ieri non è stata la prima press release, la prima conferenza stampa. Infatti la prima è stata ai fine novembre, i primi di dicembre, vado a memoria, quindi scusatemi su... Se sono un po' poco preciso sulle date, su queste cose qui, però purtroppo non è un video ufficiale, quindi dovete perdonarmi su questa cosa. Non è stata la prima press release, la prima fu fine novembre, i primi di dicembre, dove sostanzialmente la Lagarde ha continuato la politica monetaria lasciata da Draghi, che era estremamente espansiva, questo è bene specificarlo, perché ha aumentato il quantità di leasing, ha fatto tutta una serie di scelte ben precise. Ho già fatto due video, uno riguardo Draghi, il tempo, gli otto anni di Draghi come presidente della Banca Centrale Europea e ho fatto un altro video riguardo appunto la decisione di Draghi di abbassare ulteriormente i tassi di interesse e di prolungare il quantità di leasing, che sono tuttora molto validi e attuali. Quindi vi consiglio comunque a fine live di riprendere quei due video. Quindi dicevamo, prima press release non ha entusiasmato, però diciamo che è stata sostanzialmente in continuità con il mandato di Draghi. Questa è la sua seconda press release e si è trovata in una situazione, diciamo, non facile. Mettiamo già in conto questo, perché poi tutti sono bravi a fare il presidente della BCE dal divano, come noi sappiamo fare facendo gli allenatori dal divano. Quindi poniamo un attimo in prospettiva, ok? Press release in un momento non facile, con tutto il coronavirus, tutte queste cose, un sacco di incertezze, eccetera, eccetera. Ora, vi spiego come l'ho vissuta io. Sapevo che c'era questa press release che è avvenuta alle ore 14.30 di giovedì 12 marzo. Scusate, giovedì 12 marzo c'è questa press release alle 14.30. Sapevo che ci sarebbe stata a fine press release, che sarebbe la conferenza stampa. Vado a leggermi le dichiarazioni di Lagarde per vedere cosa ha detto. E sinceramente, leggendo tutte le sue dichiarazioni, non ho trovato nulla di particolarmente strano. Devo essere sincero, non ho trovato assolutamente nulla di strano. Comunicava che comunque avrebbe continuato con questa politica monetaria espansiva, non avrebbe abbassato i tassi di interesse come alcuni si aspettavano. Non ha deciso di non abbassarli ulteriormente, che già sono sotto zero comunque. Sono al meno 0,5%. Devo essere sincero, non ho trovato nulla di particolarmente strano. Poi, navigando soprattutto su Facebook, purtroppo, mi imbatto su dei post di un gruppo di cui faccio parte, che erano impazziti riguardo la Lagarde. E io dico, che cosa succede? Mi sono perso qualcosa? Cosa sarà mai successo? E quindi vado a controllare la discussione, eccetera, eccetera. Alla fine capisco che c'era una frase che aveva creato Scalpore. Che stiamo qui per ridurre lo spread? Non è la funzione, è la missione della BCE. Questa cosa ha fatto Scalpore perché, ovviamente, un giornalista gli aveva chiesto cosa ne pensava dell'aumento dello spread italiano. Che, e questo è bene, lo dico adesso ma lo sottolineerò anche successivamente, era già aumentato alle ore 14 di giovedì 12 marzo. Quindi mezz'ora prima della conferenza stampa aveva già avuto un picco. Quindi per questo abbiamo fatto questa domanda e lei ha risposto in questo modo. E i giornalisti italiani, e non solo giornalisti italiani, tra cui Fubini, ma anche, vuoi non mettere Borghi che faccia un po' di casino? E un po' tutti, diciamo, da un po' da tutte le fazioni hanno fatto casino sul fatto che Ah, vedete, l'Europa ci lascia indietro, non ci darà una mano, eccetera, 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 eccetera. Ora, il virgolettato, che è all'interno di una frase, che non è stata ripresa tutta, appunto, abbiamo detto che diceva, non siamo qui per ridurre lo spread, non è la funzione della BCE. E questa frase è vera. Cioè, c'è poco da fare. Quella frase è oggettivamente vera. Se voi andate sul sito della Commissione Europea, come anche sul sito della Banca Centrale Europea, andate a vedere la funzione della Banca Centrale Europea, qual è la funzione della Banca Centrale Europea, scoprirete che la Banca Centrale Europea ha il compito di variare i tassi di interesse sui depositi delle banche, in modo da tenere un tasso di inflazione vicino, ma inferiore al 2%. E questo è il compito principale della Banca Centrale Europea, non quello di tenere bassi gli spread tra gli stati. In più, aggiungiamoci che, come ho già detto all'inizio della live, io ho detto che la Banca Centrale Europea è indipendente dagli stati, quindi non potrebbe la Banca Centrale Europea risolvere un problema di un singolo Stato. Questo sarebbe contro le regole della Banca Centrale Europea e tutti gli altri stati avrebbero tutto il diritto di reclamare un ipotetico intervento sotto quel punto di vista. Fin qui, penso che sia tutto chiaro, la Lagarde non ha detto nulla di eccezionale, ma la frase non è stata ripresa integralmente, perché prima di quella non siamo qui per ridurre lo spread, ha citato letteralmente noi ci saremo, come ho detto prima, usando la massima flessibilità, ma non siamo qui per ridurre lo spread, non è la funzione della BCE. Quindi, nella stessa frase, ha dato massima disponibilità nell'aiutare l'Italia in questa condizione straordinaria di crisi, ok? Non ha mai detto, fanculo l'Italia, non l'aiuteremo mai, o questo non è un problema della Banca Centrale Europea. ha detto, anzi, che darà massima disponibilità. E di nuovo, se andate sul profilo Twitter della Banca d'Italia, come anche sul sito della Banca d'Italia, troverete un tweet che recita che recita come la Banca d'Italia, lo dice, la Banca d'Italia e l'ECB hanno organizzato un incontro insieme a tutte le banche centrali europee e hanno accordato degli interventi straordinari di politica monetaria a favore dell'Italia. A favore dell'Italia. Quindi la situazione è abbastanza chiara, è limpida, è limpida. La Lagarde non ha detto nulla di strano, e anzi, è una cosa super banale. Se ad un esame di mercati finanziari il professore vi dicesse il compito della Banca centrale europea è quello di ridurre lo spread tra gli stati e voi, dite di sì, venite bocciati all'esame. Bocciati! E anzi, forse vi prendete anche una pedata nel culo. Quindi la Lagarde non ha detto nulla di eccezionale. E anzi, ha dato massimo sostegno. Solo però che i giornali italiani, come anche la politica italiana, ha preso solo quella frase, quello spezzone di frase, è inserito in quella frase più grande. Cioè, veramente? Veramente? Tutto, tutto, sono fatti, non sto riportando nessuna mia opinione personale. Tutto, tutto, si può guardare, insomma, si può andare su Twitter, si può andare sul sito della Banca centrale europea, si può andare sul sito della Banca d'Italia. Nessuno ha mai, si è mai ritirato da nulla. In più, due giorni fa, Ursula von der Leyen, che è il presidente della Commissione europea, in italiano, ha fatto una conferenza stampa in italiano, parlando in italiano, lei è tedesca, dando il massimo sostegno all'Italia. Dando il massimo sostegno all'Italia. Ora, come dicevo prima, lo spread non è aumentato principalmente perché la Lagarde ha fatto quelle dichiarazioni, perché, come dicevo prima, la conferenza stampa è iniziata alle 14.30, lo spread ha iniziato ad alzarsi alle ore 14, e visto che lo spread è aumentato prima della conferenza stampa, un giornalista gli ha fatto proprio una domanda riguardo quel fatto che era già successo. la conferenza stampa è durata un'ora e mezzo, quindi è finita diciamo alle 16, e il picco massimo, di nuovo anche qui i dati, ma andate sul Sole 24 ore, scrivete su Google spread Italia, andate sul Sole 24 ore, trovate tutto il grafico, minuto per minuto, il picco c'è stato alle ore 17, il picco più alto c'è stato alle ore 17, e tra l'altro questa mattina è di nuovo sceso, è di nuovo sceso lo spread, che poi tra l'altro lo spread ha aumentato di 60 punti, quindi non è che stiamo parlando di qui ho degli appunti per non perdermi nulla, è qui, fin qui tutto normale, ora alcuni dicono poteva esprimersi meglio, sì, forse poteva esprimersi meglio, rimanendo sul fatto che non ha detto nulla di eccezionale, ha detto semplicemente la verità, solo che soprattutto in ambito economico, a noi italiani la verità ci fa schifo, ci disturba fondamentalmente, preferiamo più essere presi in giro riguardo l'ambito economico, e quindi quando ci dicono la verità noi reagiamo in modo isterico. Poteva esprimersi meglio? Probabilmente sì, poteva stare un po' più attenta, anche se se riprendiamo la frase per intero, comunque ha precisato che non avrebbe lasciato sola l'Italia. Quindi il giornalismo ha preso queste due cose. E poi appunto i detrattori di Lagarde riguardo questo evento affermano che Draghi avrebbe fatto di meglio, Draghi ha fatto i whatever it takes. Anche qui prendiamo con le pinze e mettiamolo nel contesto, perché un conto è dire Draghi ha avuto, tra l'altro, a parte che era Lagarde e da sei mesi che è la presidenza della BCE, quindi i giudizi sono anche un po' affrettati, ma assumiamo che Draghi abbia avuto una comunicazione migliore rispetto alla Lagarde, tra l'altro la comunicazione di Draghi l'ho anche citata in un video di cui parlavo di Draghi, che è stato effezionamente un'arma efficace e ben usata, uno strumento ben usato da Draghi, questo è indubbio. Però da qui a dire che Draghi è un esponente della MMT e che quindi ha fatto una politica monetaria sempre iperespansiva che ha lasciato brilli e sciolta l'Italia, è un grande errore anche questo. Attenzione. E infatti, e qui arrivo, e secondo me, secondo me i dati mi danno ragione, la situazione non è assolutamente paragonabile alla crisi del 2012, quando Draghi disse il whatever it takes, dove lo spread era a 500 punti, c'era stata una doppia crisi finanziaria, c'era stata una prima crisi finanziaria e una seconda crisi due anni dopo sui debiti pubblici di Stato. Tutti i mercati finanziari avevano pochissima fiducia e non volevano più prestare soldi allo Stato italiano e comunque alle banche italiane che avevano dei crediti deteriorati. Insomma, tutta una situazione molto particolare che ha spinto Draghi a prendere delle misure drastiche. Mentre qui non siamo ancora a questo livello. Lo spread era a 200 e schizzato a 260, ma comunque siamo a livelli normali. Bisogna anche interpretare la crisi che stiamo vivendo adesso e magari lo faremo dopo parlando del coronavirus, ma le due situazioni sono completamente diverse. Ok? In più, di nuovo, andiamo a vedere cosa ha detto Draghi, perché purtroppo le persone hanno la memoria corta e prendono solo i pezzi di frase che piacciono a loro. Anche questo, verificabile, andate su YouTube e scrivete Draghi whatever it takes, c'è il discorso di Draghi e prima di dire whatever it takes, me lo ricordo a memoria, dice, e questo di nuovo l'ho detto anche nel video di qualche mese fa dove parlavo di Draghi, dice within within our mandate, within our mandate Daisy D will do whatever it takes e poi non ricordo. E poi fa believe me, it will be enough. Quello che non si ricordano i tanti è che prima di whatever it takes, Draghi dice within our mandate che significa in inglese tradotto all'interno del nostro mandato. E il mandato della BCE non è fare favori ai singoli stati, ok? Non è risolvere i problemi di finanza pubblica dei singoli stati. Draghi è stato molto bravo nell'utilizzare lo strumento della comunicazione a suo vantaggio. ed è stato bravo a tenere a bada le due fazioni, quella dei falchi e quella delle colombe. Ma stando nel mezzo è sempre stato ben preciso nella sua posizione non sempre non andare mai al di fuori dei propri confini e cioè i confini del mandato della BCE che sarebbero quelli dell'indipendenza della banca centrale e quello che l'occupazione principale della banca centrale europea è quella di tenere il tasso di inflazione vicino ma inferiore al 2%. E di nuovo vi rimando ai miei due vecchi video che dicevo le stesse cose. Ora di nuovo riprendendo la comunicazione di Mario Draghi quando annunciava il quantità di vising lo prolungava anche nella sua ultima dichiarazione a fine novembre dove prolungava il quantità di vising ha sempre specificato che sì ok io faccio una politica monetaria espansiva ma questo non basta l'ha sempre dichiarato molti di voi ci sta giustamente lo capisco non hanno mai letto le dichiarazioni di Draghi in queste press release che come vi dicevo prima si fanno ogni 12 settimane ma se andate a leggere tutte le dichiarazioni di Draghi in questi eventi ha sempre 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 specificato che ok facciamo più moneta facciamo una politica monetaria più espansiva ma senza l'aiuto degli stati senza un'espansione fiscale accompagnata una ripresa dell'economia la politica monetaria non funzionerà mai e questo non lo dice Whatsapp Economy l'ha sempre detto Mario Draghi durante le conferenze a stampa di tutti gli otto anni di mandato di Mario Draghi ok veramente veramente non sono le mie opinioni vi sto raccontando quello che è successo si è andato a vedere ha sempre specificato che la politica monetaria in questi casi non basta anche perché è sotto lo zero cioè fino a due anni fa la teoria economica non avrebbe non avrebbe mai mai immaginato che i tassi di interesse della banca centrale sarebbero arrivati al di sotto dello zero non avrebbe mai pensato ci siamo arrivati in maniera straordinaria però si è sempre detto state attenti e l'ho specificato anche in un altro video che non è la soluzione finale non è la soluzione finale tra l'altro appunto come dicevo prima se magari mettiamo anche in conto che le dichiarazioni di Lagardo sono state avventate anche se in realtà no e sono state manipolate come sono state manipolate anche le dichiarazioni di Draghi nel 2012 quando ha detto whatever it takes perché prima di whatever it takes ha detto within our mandate che pochi si ricordano questa piccola frase ma facciamo finta che a causa della Lagarde lo spread si è alzato di 60 punti 60 punti non sono nulla in queste condizioni dopo ci arriviamo alle condizioni che stiamo vivendo ma un anno fa con Salvini e i 5 Stelle uno spread almeno di 260 punti dove vivevamo costantemente questa situazione cioè come funziona la cosa spieghiamoci non lo so cioè ci sarebbe da fare tutto un discorso su questo argomento ma evitiamolo altrimenti uscirebbe una live di 3 ore dove siamo sulla mia tabella di marcia e arriviamo alla situazione economica arriviamo alla situazione Giorgio dice che comunque questi tassi negativi sono un problema assolutamente sì e tra l'altro lo spiego anche in un video che ho fatto come vi dicevo i due video uno su Mario Draghi e uno sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea dove spiegavo questi due fenomeni qui quinto punto situazione attuale il mercato sta apprezzando sta apprezzando bene fondamentalmente la situazione politica la situazione economica ora il mercato secondo voi tra l'altro è aumentato già prima anche una settimana fa quando c'è stata le dichiarazioni che chiudevano tutto ma vabbè secondo voi il mercato prezza di più un paese intero che si è fermato oppure la presidente della Banca Centrale che dice cose banali che appunto il compito della Commissione Europea non è quello non è quello di diminuire gli spread ha detto una cosa banale cioè il mercato è più preoccupato di un paese fermo completamente fermo a livello economico oppure su questa banalità economica che ha detto la presidente della Commissione Europea e anzi secondo voi il mercato prezza di più quindi diciamo che si sente più preoccupato si sente più preoccupato delle banalità che dice il presidente della Banca Centrale Europea oppure alla politica e al giornalismo italiano che si preoccupa di cose banali che vengono dette dalla presidente della Commissione della Banca Centrale Europea basta che la Lagarde dice qualcosa di estremamente scontato per far entrare nel panico un paese questa cosa vi preoccupa o non vi preoccupa voi che dovete investire in Italia a me preoccupa secondo me cioè una cosa veramente così banale mette in stallo un paese siamo seri cioè veramente vogliamo discuterne come dovrebbero apprezzarci i mercati e se entriamo nel panico per queste cose così banali arriviamo verso la fine poi mi do qualche minuto di pausa e poi iniziamo a interagire tra l'altro è stata indicata anche sul fatto che avrebbe dovuto diminuire i tassi di interesse ora a parte il fatto che comunque e poi ci arriviamo anche sulla condizione coronavirus eccetera eccetera ma bisogna vedere che tipo di crisi economica è non è che qualsiasi crisi economica ha sempre la stessa soluzione ha sempre la stessa arma dipende da che crisi economica è ma vabbè ammettiamo che ammettiamo che queste critiche sul fatto che bisognava diminuire i tassi di interesse la lagarde doveva diminuire i tassi di interesse sui titoli sui tassi di interesse della banca centrale europea cosa hanno fatto le altre banche centrali degli altri stati Fed banca centrale americana praticamente abbassato i tassi di interesse abbassato i tassi di interesse e il mercato azionale è crollato comunque ripeto tutte cose verificabili abbassato i tassi di interesse sotto la pressione di Trump che tra l'altro Trump ha messo sotto pressione per lungo tempo affinché abbassasse la Fed i tassi di interesse e ovviamente quindi la Fed è da molto tempo sotto attacco da parte di Trump sotto questo punto di vista e ha preso di balzo questa condizione del coronavirus diciamo cedere a queste pressioni di Trump ha abbassato i tassi di interesse e la borsa è crollata comunque Boe o Boi la banca centrale inglese cosa ha fatto? ha abbassato i tassi di interesse cosa è successo? il mercato azionario è crollato cioè la BCE non ha abbassato i tassi di interesse e il mercato azionario è crollato comunque quindi di nuovo ritorniamo ritorniamo al stesso problema il mercato è più preoccupato di un'economia globale che sta andando in stallo o su un tasso di interesse che è già basso e che c'è già enorme liquidità monetaria all'interno del mercato facciamo i seri vi prego ho visto anche delle pagine di economia per giovani che sparavano delle boiate cioè prendiamo la situazione nel contesto non ha detto nessuna assurdità probabilmente poteva esprimersi un po' meglio poteva essere un po' più un po' più carismatica sottolineare alcuni punti però all'interno della frase da cui è stato preso un pezzo della frase la frase comunque era abbastanza legittima e ha dato pieno supporto all'Italia supportata anche dalla von der Leyen Draghi non è non ha mai espresso che la politica monetaria era la soluzione a tutti i mali quindi veramente non io veramente ieri ieri ho fatto fatica a dormire perché ero estremamente incazzato di questa cosa che gente che guarda delle dichiarazioni assolutamente normali incazzarsi e entrare nel panico per le condizioni italiane io mi preoccupo perché un paese arriva in stallo e arriva in stallo per delle dichiarazioni così banali io di questo mi preoccupo non del Lagarde che ha fatto delle dichiarazioni magari un po' un po' più azzardate che di nuovo abbiamo visto che non sono azzardate e qui arriviamo alla conclusione di Lagarde poi iniziamo a interagire ritorniamo al solito problema e qui mi beccherò un sacco di insulti mi beccherò un sacco di liberista un sacco di pro Cottarelli non mi interessa non mi interessa perché la teoria economica è baffanculo dalla mia parte ci portiamo dietro un debito pubblico non dico troppo elevato ma che non è sostenibile e che io avevo già questa idea avevo già questa idea appunto come dicevo appena è uscito questo clamore riguardo questa notizia poi la sera sono andato a guardare anche il video di Boldrin e sottoscrivo ogni minima parola anzi forse io sono ancora più estremista di Boldrin ci portiamo dietro quella cosa ci portiamo dietro quella cosa che ogni accenno di crisi economica il nostro debito pubblico non ci fa passare in sicurezza il periodo di crisi economica perché siamo soggetti a qualsiasi tipo di inconveniente guardate gli altri stati gli altri stati hanno avuto un aumento dello spread lo hanno avuto assolutamente no perché l'Italia l'ha avuto perché è fragile a livello di conti pubblici a livello di finanza pubblica è fragile e qualsiasi dichiarazione noi siamo come foglie al vento come si fa come si fa a dare la colpa sempre alle state dare la colpa sempre a qualcun altro sempre a qualcun altro ora cioè io mi preoccupo più di una Lagarde che può avere i suoi limiti può avere i suoi sbagli che ha detto magari ma ammettiamo anche che abbia detto una cazzata mi preoccupo più di delle dichiarazioni di una di un presidente di una banca centrale o di un paese che va in stallo per una dichiarazione e che anzi la politica mette benzina sul fuoco dicendo italexit italexit cioè cosa è più preoccupante sinceramente sinceramente cioè veramente a me non frega nulla liberista non liberista comunismo maxi non interessa veramente non interessa nulla sono tutte robe che potete tranquillamente andare a trovare in giro le dichiarazioni di Lagarde le trovate in giro vi mando anche il link del Corriere questo in live poi metto tutte le fonti sul video c'è il video dove specifica chiaramente questo link twitter banca d'italia dove afferma che c'era hanno intrapreso già delle collaborazioni tra banca d'italia e banca centrale europea che comunque erano estremamente a disposizione per qualsiasi pericolo per qualsiasi rischio cioè ragazzi veramente non capisco non capisco a me fa veramente paura mi preoccupa e ieri veramente non riuscivo ho avuto difficoltà a dormire per quanto era incazzato di sta roba che c'è gente che va in panico per una dichiarazione estremamente banale di un esponente dell'euro e poi abbiamo borghi o chi per lui che subito vanno all'attacco con italy exit ecco vedete vedete sono loro che vanno contro di noi spero di non aver dimenticato nulla spero di non aver dimenticato nulla ma credo che ci sia già abbastanza carne sul fuoco e che questo video se lo pubblico ah quanti insulti tra i commenti ma a me ma a me a me non interessa cioè veramente non interessa nulla non interessa nulla cioè preferito un giornalista un politico che vi dice che la Lagarde non interessa la situazione finanziaria dell'Italia o io che non sono nessuno ma non sono assolutamente nessuno che vi dice che la Lagarde in quella frase dice anche che noi ci saremo usando la massima flessibilità e poi dice una cosa super banale che se dite questa cosa se dite la cosa contraria se dite che la tenere bassi i tassi di interesse delle nazioni venite di mercati finanziari venite bocciati poi se vi piace essere bocciati fatelo cioè ripeto pensate quello che volete a me non interessa nulla a me non interessa a me non interessa nulla di quello di quello non sono qui per farvi cambiare idea non sono qui per dire questo non ve lo dicono pensate quello che volete io sono molto preoccupato che una nazione entri in stallo per veramente uno starnuto è incredibile incredibile e questo avviene dopo 12 anni da una crisi economica abbastanza grave dopo 10 anni da una seconda crisi susseguente alla prima da dove ci siamo ripresi in maniera ridicola e ci siamo veramente ripresi in maniera ridicola siamo ripeto foglie al vento non lo so cioè poi lo so che mi becco insulti ma ripeto a me non interessa nulla ma abbiamo molta più sovranità se riusciamo a diminuire il debito pubblico perché siamo meno soggetti a dichiarazioni magari se volete non sono totalmente d'accordo ma ammettiamo anche poco felici non siamo non siamo ricattabili dai mercati finanziari eccetera eccetera cioè veramente beh non lo so basta finisco concludo poi questo spezzone di credo sia durato 40 minuti anche troppo forse ma lo pubblicherò e vedremo cosa ne esce vedremo cosa ne esce ci sarà da divertirsi ci sarà da divertirsi e per quelli che dicono che sono un liberale un liberista in questo momento la soluzione è l'intervento dello Stato sono il primo a dirlo intervento pubblico in questo momento ma come ci arriviamo ad utilizzare lo Stato in questo momento come ci arriviamo con un debito pubblico del 130% che è stato aumentato negli anni dando mangi elettorali che non si è fatto assolutamente nulla per la crescita in questo momento che la teoria economica è concorda e sono io il primo a dire lo Stato e poi vi dirò quando parleremo di coronavirus anche se è fatta anche una certa di come cercare di superare al meglio questa situazione io sono il primo a dire ci deve essere l'intervento dello Stato sono il primo il primo socialista sono sono il primo socialista se volete guarda a me non interessa nulla del dibattito liberismo liberale liberista non mi viene rega a niente sono il primo ma in che in che condizioni di finanza pubblica ci arrivi a questo momento boh mal di testa mi è arrivato il mal di testa troppo troppo a me pare sempre tutto assurdo di una banalità discorsi così banali che in Italia diventano di vita e di morte di vita e di morte di oh mio Dio ci stanno rubando il futuro banalissimo un ragazzo di secondo anno di università di economia trova il discorso di Lagarde estremamente banale estremamente banale e poi mi ritrovo politici economisti assoldati come politici e giornalisti economici che dicono l'Europa ci lascia indietro no non hanno mai detto questa cosa che qual sfido una persona a trovare una dichiarazione sotto questo punto di vista almeno da parte delle persone che fanno parte delle istituzioni europee sfido vi sfido a trovare qualcuno tra la von der Leyen tra la Lagarde tra il presidente del Parlamento Europeo qualsiasi carica europea di valore sfido vi sfido a trovare qualcuno che abbia mai detto in questo periodo a noi non ce ne frega un cazzo dell'Italia a noi vi sfido veramente vi pago pizza e birra cancello questa live mi ritiro da The World Da YouTube veramente che rent che rent wow sono fiero di me spero di aver lasciato nulla indietro ma adesso passa l'idea che Draghi era pro politica monetaria in qualsiasi momento non siamo stati ben attenti a quello che diceva Draghi assolutamente no si fa abbiamo cioè abbiamo un forte problema nelle materie STEM ma beh questo è chiaro ma abbiamo anche un problema a livello statistico di comprensione di correlazione causazione tutte queste robe veramente veramente perché poi ovviamente il debito pubblico ce lo portiamo dietro da così tanto tempo che poi entra in secondo piano e quindi la notizia del giorno fa molto più impatto rispetto a un problema pregresso che abbiamo sempre che abbiamo da da decenni non ce la faremo mai tutt'oggi sottoscrivo il video il vero problema dell'Italia sono io il primo a dire che era un po' un po' fatto un po' non troppo preciso ma perché comunque era ho cercato di trattare la storia economica italiana in modo un po' affrettato tutto quello che volete ma il senso del discorso di quel video assolutamente sottoscrivo ancora oggi non ce la faremo mai sempre colpa degli altri il problema altri ma è nostro un paese che entra in panico per tre parole che si sono dette e ripeto la situazione di oggi non è assolutamente paragonabile a quella di Draghi come dice appunto come dice Costanzo il video era provocatorio non era preciso era quello che volete l'ho fatto apposta ma il senso il senso è quello lo vediamo ancora lo stiamo vivendo tuttora fantastico fantastico e ripeto alla fine della live andate a prendervi a riguardarvi i video che ho fatto uno sulla politica monetaria ho fatto un commento un video che commentava la politica monetaria alla fine del mandato di Draghi e un altro video che commentava tutti gli otto anni di Mario Draghi dove appunto specificavo questa cosa che prima di whatever it takes c'era within our mandate e che Draghi non si è mai sognato di andare fuori dai propri compiti grazie a tutti grazie a tutti